E ormai questione di giorni e sarà ufficializzata la rivoluzione in casa Sporting Pasteria. La formazione che milita in seconda categoria è infatti pronta a cambiare denominazione trasformandosi in città di Calatabbiano. Dopo la più che dignitosa salvezza della passata stagione, adesso il club vuole alzare l'asticella e migliorare le proprie performance. Cambieranno quadri dirigenziali e tecnici che dovranno essere annunciati entro questa settimana.